Non solo la sua sedia era vuota, ma era scomparsa insieme a quella deliziosa pia di libri che ormai si era abituata ad avere sul comodino. E soprattutto, non c'era nessuno con cui discorrere dei metodi di Alice Marlowe. Non era ben voluto maestà, lo informò Sir Kevin. Era ben voluto da me, disse la regina. Dove è andato? Non ne ho idea, maestà. Norman, da ragazzo sensibile qual era, scrisse alla regina una lunga lettera confidenziale sui corsi che stava seguendo e sulle letture che doveva fare. Ma quando ricevette una risposta che esordiva con la ringrazio delle notizie che sua maestà ha preso con estremo interesse, capì di essere stato fatto fuori. Solo non sapeva se dalla regina o dal segretario privato. Sua maestà, invece, non aveva dubbi su chi avesse architettato la sua partenza. A Norman era toccata la stessa sorte della biblioteca circolante e della cassa finita a Calgary. Come il libro nascosto dietro il cuscino nella carrozza. Era già tanto che non lo avessero brillato. Norman le mancava. Questo era in dubbio, ma non ricevendo da lui né una lettera né un biglietto, non poteva fare altro che proseguire per la sua strada. La sua assenza non l'avrebbe comunque distolta dalla lettura. Può sembrare strano che la regina non fosse più addolorata dall'improvvisa partenza di Norman, ma non per questo bisogna giudicarla male. La sua vita era sempre stata accostellata da assenze improvvise e partenze inaspettate. Per esempio, se qualcuno si ammalava era raro che ne venisse informata. Si riteneva di doverle esonerare, in quanto regina, da sentimenti quali angoscia e compassione. O perlomeno i cortigiani la pensavano così. Quando poi la morte, come polto appaccale, si portava via un domestico o anche un amico, spesso la regina scopriva solo allora che c'era un problema. Non dobbiamo preoccupare su ammestà. Era il principio osservato da tutta la servitù. Norman, naturalmente, non era morto. Era solo andato all'università dell'Istanglia. Ma dal punto di vista degli attendenti, era un po' la stessa cosa. Perché una volta svanito dalla vita di sua ammestà, cessava di esistere. Né lei né nessun altro lo nominavano più. Non che sua ammestà andasse biasimata. Su questo gli attendenti erano tutti d'accordo. La regina non andava mai biasimata. C'è gente che muore, gente che se ne va, e sempre più spesso, gente che rilascia interviste. Sui giornali, in un modo o nell'altro, erano sempre ripartite. Loro se ne andavano e lei restava. A uno del vero, la regina, prima della misteriosa partenza di Norman, aveva cominciato a chiedersi se non lo stava superando. Nei primi tempi lui era stata una guida umile e diretta nel mondo dei libri. L'aveva consigliata, senza esitare, a dirle quando riteneva che non fosse ancora pronta per un libro. Per un bel pezzo, per esempio, l'aveva tenuta lontana da Beckett e da Nabokov. E solo pian piano l'aveva iniziata Philippe Roth, rimandando il più possibile il lamento di Portnoy. Con il passaggio del tempo, però, sua amestà aveva cominciato a leggere quello che le andava e Norman faceva lo stesso. Parlavano di quello che leggevano, ma la regina capiva che la sua vita e la sua esperienza la mettevano in una condizione di superiorità. I libri da soli servono fino a un certo punto. Aveva anche imparato che le predilezioni di Norman potevano essere sospette. A parità di merito, lui tendeva comunque a preferire autori gay, motivo per cui la regina conosceva i geni. Certi le piacevano anche, per esempio, era affascinata dai romanzi di Mary e Renaud, ma non era entusiasta del filone più deviante, Denton Welch, per l'inno 1, dei preferiti di Norman. Le sembrava piuttosto morboso. Isherwood, troppo elucubrazioni, manca il tempo. Come elettrice, sua amestà era spedita e diretta. Non voleva crogiolarsi in nulla. Adesso, che era sola, però, intrateneva a lunghe conversazioni con se stessa e trascriveva sempre più suoi pensieri. I quaderni si moltiplicavano e il loro campo di indagine si allargava. La chiave di volta della felicità è non sentirsi investiti di alcun diritto, aggiunse un asterisco e annotò a fondo pagina, una lezione che non ho mai avuto l'opportunità di apprendere. Una volta stavo conferendo il titolo di Companion of Honor a Anthony Powell, se non sbaglio, e si parlava di comportamenti incivili. Proprio lui, così a modo, anzi convenzionalista, osservò che uno scrittore resta pur sempre un essere umano. Lo stesso non vale per la regina, ma questo non gliel'ho detto. Io devo sempre sembrare un essere umano, ma non per forza esserlo. A quello sono preposte altre persone. La regina si trovò anche ad annotare descrizioni di persone che incontrava, non necessariamente famose, i loro comportamenti, il modo di parlare, le storie che le raccontavano, spesso in via confidenziale. Quando i giornali pubblicavano l'ennesimo scoop sulla famiglia reale, registrava sul suo tacuino come hanno veramente andate le cose. Se qualche scandalo sfuggiva all'attenzione pubblica, veniva notato anche quello. Il tutto reso con quel tono giudizioso e pratico in cui ormai la regina si compiaceva di riconoscere uno stile suo. Senza più Norman, sua amistà prese nuove direzioni. Ordinava sempre i libri alla London Library, in libreria, ma adesso non era più un segreto fra lei e il suo assistente. Adesso doveva fare richiesta a una dama di compagnia, che doveva fare richiesta al direttore amministrativo, e così via. Era un'iter sfinente, e ogni tanto la regina lo aggirava, incaricando i nipoti in meno in vista. I ragazzi erano felici che almeno lei si ricordasse di loro, dato che di solito venivano completamente ignorati dal pubblico. Ma sempre più spesso, la regina prendeva i libri dalle sue biblioteche, in particolare da quelle di Windsor, dove pur essendoci una gran scelta di votori moderni, gli scaffali traboccavano di edizioni dei classici, alcune delle quali ovviamente autografate, per esempio da Jackery, Balzac, Turgenev, Dickens, Trollope, George Eliot, Thomas Hardy, libri che un tempo avrebbe ritenuto all'ilà delle sue capacità, ma che adesso leggeva con scioltezza, matita alla mano, scrivendo sui suoi tacquini ordinati. «Era dai tempi di Giorgio III che quegli antichi scaffali non vedevano un lettore così assiduo», riflettò il bibliotecario. Costui era stato uno dei tanti a menzionare alla regina le attrattive di Jane Austen, ma l'insistenza generale le creava delle resistenze. Inoltre, rispetto a quella autrice, era frenata da un impedimento unico nel suo genere. C'era un tale rivario tra la regina e qualunque suddito, sia pure il più illustre, che le differenze sociali non erano percepibili. Dal momento che l'essenza di Jane Austen stava proprio nella sottigliezza delle sfumature sociali e che agli occhi della regina esse avevano ancora meno importanza che per il lettore comune, la lettura le riusciva particolarmente faticosa. I libri di Jane Austen erano praticamente dei trattati di entomologia. I personaggi non erano proprio formiche, ma la regina parevano così simili fra loro che ci sarebbe voluto un microscopio. fu solo con l'approfondirsi della sua comprensione sia della letteratura sia della natura umana che essi acquistavano individualità e fascino. Per la stessa ragione, perlomeno all'inizio, nemmeno il femminismo le parve degno di nota, poiché le differenze di genere, come le distinzioni di classe, erano nulla in confronto all'abisso che separava la regina dal resto dell'umanità. Ma che si trattasse di Jane Austen, del femminismo o anche di Dostoevsky, la regina alla fine trovava modo di colmare queste e altre lacune. Però le veniva sempre qualche rimpianto. Anni prima, a Oxford, si era trovata pranzo accanto all'old David Cecil e non aveva saputo cosa dirgli. Solo adesso aveva scoperto che costui aveva scritto dei libri su Jane Austen, oltre che su tanti altri, e adesso sì che avrebbe apprezzato quell'incontro. Ma Lord David era morto e quindi era troppo tardi. Troppo tardi. Era sempre troppo tardi. Ma lei andava avanti, più decisa che mai, a fare il possibile per mettersi al passo. Grazie.